Ciao amici di Che Cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi, visti i primi veri freddi, preparo un piatto adatto alla stagione, ossia zuppa di legumi. In un tegame di terracotta metto dell'olio extravergine di oliva, aggiungo poi un aglio tagliato a metà e lo lascio dorare. Quando l'aglio si è dorato, metto nel tegame dei ceci, dei piselli, dei fagioli e delle lenticchie. Confesso, sono tutti in scatola, ma sono buonissimi comunque. Aggiungo un po' di sale e lascio cuocere. Più semplice di così, il piatto è pronto. Più semplice di così, il piatto è pronto.